Molto, molto lontano, in una terra magica di nome Miuni, viveva una principessa, Star Butterfly! Stabane! Alcuni dicono che io sia spericolata e irresponsabile, solo perché... ...combatto mostri! ...e dopo unicorni selvaggi! Adoro divertirmi! E oggi mi divertirò ancora di più perché è il mio quattordicesimo compleanno! E secondo la tradizione mia madre e la regina deve darmi in dono che il più importante cimelio di famiglia... ...la bacchetta magica reale! Ascolta, Star! La bacchetta comporta grande responsabilità! Sì! Se dovesse cadere nelle mani delle forze del male, l'universo sarebbe distrutto! Sta tranquilla, mamma, sopra gestirla! Non è in grado di gestirla! No! Parola brava, vi prego! Non mandatemi al riformatorio di Sant'Olga per principessi e ribelli! Tesoro, noi non ti manderemo lì! Oh! Per ora! Andrai ad esercitarti in una dimensione più sicura, un luogo chiamato Terra! Terra? Manfred, apri immediatamente il portale! Arrivederci, Miunic!